Amici, secondo me le parole del numero uno, del numero uno, di colui che ricopre la carica massima nell'FC internazionale, rappresentano, quelle parole rappresentano una svolta, una svolta, o verso l'altro o verso l'abisso, perché poi se a determinate parole poi non ci aggiungi i fatti, è facile che ti smerdano, è facilissimo. Specialmente quando sono troppi anni che ronzoli, che galleggi in un qualcosa di viscito chiamato merda. Quindi credo che veramente la cena di ieri, la cena di Natale, che dove tra l'altro c'è anche un po' di figa, la Belen, la Vanda, però a noi non ce ne fotta, a noi ci interessa l'Inter, le parole di ieri rappresentano tanto, se non, come ho già detto, una svolta. Una svolta. Perché se il Presidente va a sparare determinate parole, è bello il proprio parafraso, parafraso, sì, va bene. Schiaccieremo tutti, schiaccieremo tutti in campo e fuori, la gente vuole venire da noi, i giocatori praticamente, si tornerà a parlare dei titoli e ambire alla vittoria. Il fatto è che, come al solito, non ti danno mai la stima. Non sappiamo se questo futuro, questo verbo al futuro, si tramuti in dieci anni o in un anno, questo non lo sappiamo, però i cinesi, Zhang e company, non mi hanno mai dato l'idea di farla fuori dal vaso. E quindi questo è un po' esporsi, secondo me è esporsi, eppure parecchio, quindi arriveranno delle certezze. Al momento c'è da dire che hanno ragione loro, cioè hanno portato l'Inter a essere nuovamente competitiva per alcuni obiettivi e quegli obiettivi decantati li stanno raggiungendo. Si parlava di tornare in Europa, ci siamo ritornati. Quest'anno ci ritorneremo, almeno che non succeda un finimondo, ma ci ritorneremo. Siamo terzi, ricordiamocelo, siamo terzi e abbiamo più sette, se non più otto, visto la differenza rete e cazzate varie, dalla Lazio, dal quinto opposto che è Lazio. Per cui, fantastico. Poi, giustamente, ci sono sempre le lamentere, perché più voi nella vita e più ancora reclami. Più voi e più reclami. Però non dimentichiamoci da dove siamo partiti e quindi siamo veramente in linea con i nostri obiettivi. Siamo usciti dalla Champions a testa altissima, perché poi l'abbiamo buttata, ma siamo usciti a testa altissima. Abbiamo fatto otto punti insieme al Tottenham. Otto punti insieme al Tottenham. Non ce l'ho riuscita, non ce l'ho... Cioè, siamo sempre un pochettino troppo facilmente funesti, ma bisogna ammettere alcune cose. Bisogna ammettere. Otto punti insieme al Tottenham. Otto punti. E ci sta uscire così. In un girone che, l'abbiamo già detto mille volte, non pensavamo mai di potercela nemmeno giocare. Comunque, se quelle dichiarazioni sono vere, sicuramente già da, non dico da gennaio, ma da giugno, ci dovrà essere un mercato importante. Un mercato davvero importante. Perché, se tu mi dici che torniamo ad ambire per i titoli, la squadra che sta vincendo i titoli da molti anni in Italia è due volte avanti a te. È due volte avanti all'Inter. Quindi, significa che dovrai veramente dare subito una smossa già al mercato. Se no, non la puoi riprendere. Non la puoi riprendere. Il gap, per quanto sembri poco o non poco, è tanto. Il gap è tantissimo. È tantissimo. Però, ci siamo molto bene. Abbiamo preso un dirigente, secondo me, di altissimo livello. Abbiamo delle pedine, delle pedine importantissime. Andano, Vicescrini, Artebrai, Brozo, Vicicardi, Politano, Nainggolan, se un domani tornassi a giocare. Quindi, hai già delle pedine importantissime. Ma queste, adesso, dopo questi proclami, dovrai aggiungerci gente con le palle. Gente che è cazzuta. Gente che già ha vinto. Gente che già ha vinto per darti subito quel qualcosa in più. E poi, inutile fare i nomi. Loro già sanno come muoversi. Ripeto, per me queste parole rappresentano la svolta. O in un modo o in un altro rappresentano la svolta. Da qui a un anno capiremo se Steven Zhang sarà il nuovo Toeir, che ovviamente pensa solo alle sue tasche, oppure, oltre che a pensare alle sue tasche, pensa anche al bene dell'FC Internazionale. Perché ognuno, ovviamente, al mondo d'oggi non fa nulla gratis. Alle sue tasche deve per forza di cose pensarci. E questo lo vedremo, lo vedremo. Speriamo di non incappare in una nuova delusione. Allora, al momento, sono veramente fiducioso in Steven. Perché, non lo so, lo vedo nei suoi occhi, come ho già detto, tanta passione e tanto ardore verso questi colori. E spero di cuore che non mi smentisca. Fatevi sapere cosa ne pensate voi, veramente. Sotto nei commenti, lasciate un like, iscrivetevi al canale e fate quello che vi pare. Un grande abbraccio, da Neschio. Al prossimo video. Avala sempre e comunque. Se ancora non l'hai fatto, lascia un like alla mia pagina Facebook, iscriviti al canale YouTube e seguimi su Instagram.